Cari fratelli e sorelle, in quest'ultimo mercoledì del mese di agosto, ricorre la memoria liturgica del martirio di San Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Nel calendario romano è l'unico santo del quale si celebra sia la nascita, il 24 giugno, sia la morte avvenuta attraverso il martirio. Quella odierna, quindi, è una memoria che risale alla dedicazione di una cripta di Sebasti in San Maria, dove già a metà del secolo IV si venerava il suo capo. Il culto si stesse poi acceso all'Emme, nelle chiese di Oriente e a Roma, col titolo di Decolazione di San Giovanni Battista. Nel martirologio romano si fa riferimento ad un secondo ritrovamento della preziosa reliquia trasportata per l'occasione nella chiesa di San Silvestro a Campo Marzio in Roma. Questi piccoli riferimenti storici ci aiutano a capire quanto antica e profonda sia la venerazione di San Giovanni Battista. Nei Vangeli risulta molto bene il suo ruolo in riferimento a Gesù. In particolare San Luca ne racconta la nascita, la vita nel deserto, la predicazione e San Marco ci parla della sua drammatica morte nel Vangelo di oggi. Giovanni Battista inizia la sua predicazione sotto l'imperio imperatore Tiberio nel 27-28 d.C. Il chiaro invito che rivolge alla gente a corsa per ascoltarlo è quello a preparare la via per accogliere il Signore, a ratizzare le strade storte della propria vita attraverso una radicale conversione del cuore. Però il Battista non si limita a predicare la penitenza, la conversione, ma riconoscendo Gesù come l'agnello di Dio venuto a togliere il peccato del mondo, ha la profonda umiltà di mostrare in Gesù il vero inviato di Dio, facendosi da parte perché Cristo possa crescere e si è ascoltato e seguito. Come ultimo atto, il Battista testimonia con il sangue e la sua fideltà ai comandamenti Dio, senza cedere o indieterciare, compiendo fino in fondo la sua missione. San Beda, monaco del nuovo secolo, nelle sue migliori dice così «San Giovanni per Cristo diede la sua vita, anche se non gli fu inciunto di rinnegare Gesù Cristo, gli fu inciunto solo di tacere la verità». E non taceva la verità e così morì per Cristo che è la verità. Proprio per l'amore alla verità non scese a compromessi con i potenti. E non è per timore di rivolgere parole forti a chi aveva smarito la strada di Dio. Adesso vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale per Dio e a preparare la strada a Gesù. La risposta è semplice, dal rapporto con Dio, dalla preghiera che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Giovanni è il dono divino lungamente invocato dai suoi genitori Zaccaria e Elisabetta. Un dono grande, umanamente inspirabile, perché entrambi erano avanti negli anni ed Elisabetta era sterile. Ma nulla è impossibile a Dio. L'annuncio di questa nascita avviene proprio nel luogo della preghiera al Tempio di Giuselemme. Anzi, avviene quando a Zaccaria tocca il grande privilegio di entrare nel luogo più sacro del Tempio per fare l'offerta di accenso al Signore. Anche la nascita del Battista è segnata dalla preghiera. Il canto di gioia, di lode e di ringraziamento che Zaccaria eliva al Signore e che recitiamo ogni mattina nelle lodi, il benedictus, esalta l'azione di Dio nella storia e indica profeticamente la missione del figlio Giovanni. precede il figlio di Dio, fattosi carne, per preparargli le strade. L'esistenza intera del precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio in particolare il periodo trascorso in regioni deserte. Le regioni deserte sono il luogo della tentazione, ma anche il luogo in cui l'uomo sente la propria povertà, perché è privo di appoggi e sicurezze materiali e comprende come l'unico punto di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma Giovanni Battista non è solo uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida a questo rapporto. L'Evangelista Luca, riportando la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, il Padre nostro, anota che la richiesta viene formulata dai discepoli con queste parole. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi cristiani di questo nostro tempo che non si può scendere a compromessi con l'amore a Cristo, alla sua parola, alla verità. La verità è verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio, cioè, di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solito il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario. Solo se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista intercida per noi, affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita. Grazie. 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 Grazie.